Passiamo ora alla cronaca giudiziaria. Nella provincia di Bergamo è stato denunciato l'ennesimo finto cieco. Era stato filmato dalla vicina mentre chiudeva la porta di casa con le chiavi e scendeva le scale. La donna lo ha ripreso anche mentre beveva un caffè al bar e mentre pagava con il bancomat. Dopo aver pubblicato i filmati su Facebook, si è recato dalla guardia di finanza ed ha denunciato l'uomo che da anni percepiva la pensione di invalidità. Per ora è tutto. Prossimo appuntamento con informazione tra un'ora. Però la cosa che non ho capito è l'indosso un orologio. Come si fa un cieco in un orologio? Tabata Caldironi e Sofia, la giornalista. Magari chiede chi ci vede di raggiungo loro. Nicola Robutti e Carlo, il meccanico. Guardi che è verde! Mauro Moscati e Dario, l'Abile 2.0 Abile 2.0, un film di Mauro Moscati. Grazie a tutti.